Evi Riccard è un artista che lavora assolutamente in maniera egregia sfidando le leggi della fisica e della natura, ma sarà in grado di sfidare le leggi del ciapacquà? Lo vediamo subito! Il primo oggetto che ti appartiene è questo puletto. Non so, non so. Ci siamo due. Ready? Posso andare in giro con questi? Puoi interviene come voi tu, a tuo piacimento. Devo mettere, puoi fare quello che vuoi. Tre minuti da questo momento, David, per realizzare qualcosa di assolutamente eccezionale con questi cinque centri. Tre, due, uno, vai! Sala di esca. È il regalo di cumpleanno del cusino di Roberto. Guardate che sta sregando la corda che fa parte di cinque oggetti che gli sono stati affidati. Il cane si è intromesso. Siamo un minuto, David, siamo un minuto. Sì, ancora un minuto. Ora David sta infilando la corda nella puleggia. La reggo. Sì, ancora un minuto. Sì, ancora un minuto. Sì, ancora un minuto. di oggetto, cioè il cappello, David raccoglie effettivamente i frammenti della lampadina scoppiata, esattamente nel sesto e settimo scalino della scala Mercalli. 10 secondi ancora David, 7, 6, e non sembra veramente che occorrono un'altra seconda per David, mi sembra che l'operazione sia esattamente finita con il recupero anche del contorno. Ancora una volta una puntata del Ciappacua si è rivelata fantastica e soprattutto il risultato ottenuto, stupefacente. Grazie David. Comunque sei rimasto nella tua cosa, no? No, no, no. Grande, veramente. No, avevi già pensato, sapete che c'era la scala? No, non sapevo. No, no, stavo guardando l'auto, è vero? Sì, sì, perché stavo cercando per l'acqua. Ah, ok. Eh, per me non c'è l'audio. L'audio spero bene. Non funziona, non c'è, qua. Gli sa perché, me lo immaginavo che avrebbe rotto qualcosa. Cioè, il tuo modo di fare, ha creato proprio a differenza degli altri. Sì, no, comunque è molto dinamico, cioè, qua corsa, qua c'è, stavo prendendo. Penso che sia stupendo l'ingresso, proprio, proprio, quando sei entrato nel portico, l'attenzione si è... E comunque c'è col passo, David. Sì, sì, sì. Sì. La corda, quando ti comando, ti nascondi. Sì, scondo sta corda. Molto vicino i suoi lavori, secondo me. Tappa qua. Sì, tappa. Poi c'è anche la tua roba. Sì, sì. Finito, tre minuti. Tu? No, 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 è tutta roba. Ready, set, go!